Sì, è stata un'operazione importante che ha consentito di smantellare, individuare, smantellare un importante giro illecito legato al mondo degli stupefacenti, ancora una volta legato appunto alle droghe. Una rete di spaccio molto attiva nella zona di Florida, di Solarino, con assuntori e compratori che provenivano un po' da quasi tutta la provincia, anche da Siracusa stessa. C'è il particolare dell'utilizzo anche dei minori? Sì, questo sodalizio ha impiegato, ha utilizzato una ragazza di 16 anni, tra l'altro in stato di gravidanza, quale corriere per trasportare sia lo stupefacente sia anche il denaro illecito provento dell'attività. Le piazze che stiamo parlando di Florida e Solarino non sono del tutto inedite? Guardi, si tratta di un fenomeno abbastanza esteso, abbastanza presente in provincia. Abbiamo avviato tutta una serie di attività anche nel sociale, proprio convinti come siamo che sia importante contrastarla con ogni mezzo. Attraverso azioni condivise, di piena collaborazione fra istituzioni, l'autorità giudiziaria e la prefettura sono al nostro fianco in questa attività di assoluta prevenzione del fenomeno.